FONTANA BUONO 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 dal secondo tempo abbiamo preso questo gol che è stato un gollaccio preso, mezzo errore e quindi ci ha tagliato anche un po' moralmente le gambe, lì la partita si era messa al meglio per il Riva che con le caratteristiche che ha davanti poteva giocare nel migliore dei modi, abbiamo rischiato grosso perché potevamo prendere il secondo gol, siamo stati anche un pizzico graziati e fortunati e dopo però con tanta forza di volontà che a me non dispiace siamo riusciti ad ottenere il pareggio, quindi direi tutto sommato giusto. Per noi il prossimo turno è un'altra partita difficile contro il Campo Morone che sarà come noi una squadra che lotterà per salvarsi e quindi dobbiamo assolutissimamente venire via da Genova con un risultato positivo, penso che anche dopo la prestazione di oggi i presupposti per poter far bene e continuare a far bene ci sono tutti.